buongiorno ragazzi con questo video cercherò di aiutarvi ad eseguire correttamente il rondola turca di mozart secondo le indicazioni che vi ho dato in classe abbiamo tre diverse figurazioni ritmiche molto semplici ma che è bene ripassare la semi minima la eseguiamo battendo semplicemente le mani le duine di crome le eseguiamo battendoci sul petto infine le quartine di semicrome le eseguiamo battendo sulle cosce basta semplicemente essere precisi nel ritmo e andare a tempo con la musica che io adesso cercherò di far partire col mio telecomandino un po di pazienza questa è la velocità normale la più lenta facciamo Hanno l'ho non ci interessa andare avanti proviamo adesso a farlo ad una velocità maggiore ok avete capito il mio amico robot vi saluta e vi do appuntamento alla prossima